Il Perugia ha atteso un ospite illustre per tornare a vincere sul proprio terreno. Dopo una sconfitta e due pareggi interni, ma anche dopo una serie di risultati di rilievo in trasferta, la matricola Umbra è riuscita a conquistare il suo primo risultato di prestigio, superando quel Torino che dopo la giornata inaugurale del torneo non era stato più sconfitto. Un risultato che mette il Perugia definitivamente al sicuro e che potrebbe invece avere compromesso il brillante campionato della squadra Granata. Gara interessante sia sotto il profilo tecnico che spettacolare, il Torino è passato in vantaggio con un gran gol di Pulici al ventunesimo, ma nel giro di sei minuti il Perugia è stato in grado di riequilibrare il risultato. Questo è il pareggio ottenuto da Curi dopo una serie di tentativi portati verso Castellini dallo stesso Curi, da Novellino e da Vannini, il cui tiro viene ribattuto sulla linea di porta. Dopo questo gol il Torino si è notevolmente disunito, mentre è salito di tono il collettivo del Perugia. Verso lo scadere del tempo Castellini non trattiene una punizione di Vannini e deve poi recuperare i suoi piedi di Novellino. Il gioco riprende con una punizione di Claudio Sala deviata in angolo da Marconcini, ma al diciassettesimo è il Perugia ad ottenere il gol del successo con Scarpa ottimamente servito da Agroppi. Rivediamo il gol decisivo e il preciso servizio dell'ex mediano Granata Agroppi che con la sua prova ha notevolmente contribuito alla seconda sconfitta stagionale del Torino.